Il futuro per l'Italia, noi speriamo, sia un'amministrazione più efficiente, che è meno elefantiaca e più strumento di sostegno per la crescita e lo sviluppo. Ci fa piacere che nella crisi comunque le realtà del non profit e quindi il mondo cosiddetto della sussidiarietà abbia uno spazio rilevante e utile a tenere insieme un paese che deve uscire, speriamo presto, dalle sue difficoltà.